Ben trovati gentili telespettatori dopo la pubblicità di nuovo in diretta qui su Cilento Channel. Questa volta in questa sezione ci occuperemo di economia e parliamo di un innovativo servizio della BCC Buccino Comuni Cilentani e quindi Smart Working, la possibilità di entrare a livello virtuale in contatto con gli operatori della banca. In che modo? E ve lo spiego, insomma se ci seguite passo passo vi faremo capire come fare. Andiamo sul sito della BCC Buccino Comuni Cilentani che è www.buccinocomunicilentani.it, clicchiamo e si apre l'home page della banca. In alto vedete il puntatore a sinistra, c'è l'indicazione in giallo prenota un appuntamento, noi ci clicchiamo sopra e scendiamo il cursore per capire qual è la filiale a noi insomma più vicina, nel senso con quale filiale vogliamo entrare in contatto, se Agropoli, Castellabate, Moio della Civitella, eccetera eccetera. Nel nostro caso noi sceglieremo Agropoli, clicchiamo su Agropoli, aspettiamo che si apre una schermata, eccola qui e praticamente come vedete la banca vi dà il benvenuto, benvenuto in banca, a destra c'è la possibilità di scegliere i servizi cliccando, vedete come sto indicando proprio adesso e i servizi possono essere conti risparmio e investimenti, conti e libretti, carte mutui, prestiti personali, in tour, servizi innovativi per il turismo, richiesta conto corrente e poi videoconferenza. Nel nostro caso noi sceglieremo videoconferenza, clicchiamo su videoconferenza e nella schermata vedete abbiamo la possibilità di scegliere sia il giorno che l'orario. Nel nostro caso abbiamo scelto giovedì 19 marzo alle ore 10.30, poi andremo ad inserire il nostro nome e cognome, ancora andiamo avanti, la mail giannipetrizzo-libero.it e poi il numero di telefono, eccolo lì, andiamo a cliccare su prenota e la nostra prenotazione, vedete, è andata a buon fine. Adesso attendiamo sulla nostra mail personale, quindi la comunicazione della banca che ci conferma la prenotazione. Dovrebbe arrivare, c'è posto, eccolo lì. Bene, adesso non mi rimane altro che cliccare e vedere se riesco ad entrare in videoconferenza con un operatore della BCC Buccino Comuni Cilentani. Oh, che bella sorpresa! Il direttore Salvatore Angione, come mai qui Salvatore? Ciao Gianni, hai richiesto un servizio innovativo e noi come banca oggi siamo pronti per assicurare la prossimità fisica digitale, nel senso che in un momento straordinario di emergenza noi ci siamo attivati attraverso investimenti tecnologici per garantire la vicinanza al territorio. Una vicinanza che ovviamente è digitale, ma allo stesso tempo non fa perdere quelle caratteristiche e requisiti di una banca locale che è sempre vicina alle famiglie e all'impresa. E questo strumento di consulenza tramite una videoconferenza, guardandoci in faccia con i nostri clienti e soci, abbiamo l'opportunità di far comprendere questo stato di emergenza, ma allo stesso tempo di meglio illustrare quelle che oggi sono le lede a disposizione che gli ultimi provvedimenti del Consiglio dei Ministri oggi mette a disposizione delle famiglie e delle imprese. Questo è un fatto molto importante perché è chiaro che anche su questi tipi di manovre ci sono state diverse considerazioni, 25 miliardi di interventi possono essere sufficienti o non sufficienti. Bisogna però capire che già questo primo tipo di intervento potrà innescare flussi finanziari per oltre 350 miliardi di euro. E questo è il compito delle banche è agevolare questo tipo di intervento attraverso l'adesione a quelli che sono gli accordi sul credito del 2019 fatto dall'ABI con le associazioni di categorie, ma anche l'ultimo decreto numero 18 del 17 marzo ha introdotto importanti novità per consentire alle famiglie e alle imprese di sostenere questo momento straordinario. Perché videoconferenza? Perché è chiaro che far comprendere oggi ai nostri clienti sia soci, imprese che famiglie, far comprendere quelle che sono le possibilità oggi per sostenere ed affrontare questo stato di emergenza è molto importante perché anche quello che abbiamo registrato nell'ultima settimana oltre 400 richieste di intervento con moratorie piuttosto che sostegno di liquidità non deve indurre però a creare un caos e quindi agganciarsi a quelle soluzioni che possono non essere risolutive. oggi tutte le manovre fatte dal Consiglio dei Ministri dà una serie di strumenti. Noi dobbiamo essere bravi insieme ai nostri clienti ad individuare quella che è la soluzione migliore che non mette in sicurezza le imprese e le famiglie solo in questo straordinario momento ma sicuramente potrà consentire loro una volta passato l'emergenza di poter continuare ad operare in piena serenità. quindi è importante oggi scegliere lo strumento migliore e compito quindi delle banche consigliare consulenziare la propria clientela in modo da far scegliere l'intervento più appropriato e teniamo presente che negli ultimi nelle ultime tre settimane diversi sono stati i decreti legge emanati dal governo e ogni decreto prevede una soluzione diversa dall'altra. Noi dobbiamo essere bravi ad individuare la soluzione migliore per i nostri clienti. La BCC Buccino Comunici Lentani già da tempo ha investito sulla tecnologia direttore e suppongo che insomma voi sponsorizzate anche il pagamento digitale si va sempre verso quella strada anche visti i motivi di emergenza insomma il denaro che si tocca con le mani insomma è poco consigliato. Assolutamente sì. Oramai l'hashtag resto a casa è un imperativo. Dobbiamo tutti avere il senso di responsabilità la mobilità in questo momento straordinario deve essere limitata alle effettive urgenze e necessità e combito però di tutti offrire strumenti adeguati affinché soprattutto per le banche i clienti possono continuare ad usufruire di quella relazione personale che per noi rappresenta il vero e proprio capitale su cui investire. Perciò anche lo strumento che oggi Gianni sta provando in anteprima e che sarà a regime dalla lunedì prossimo dalla prossima settimana è uno strumento fondamentale perché molte volte guardarsi negli occhi per cercare di capire effettivamente lo stato di disagio e le esigenze dei nostri clienti è un qualcosa di fondamentale. in questo momento quindi l'intera struttura della banca è impegnata per garantire qualità e standard di servizi molto elevati e colgo l'occasione veramente per ringraziare tutti i miei collaboratori perché in questo periodo stanno facendo uno sforzo immane per garantire il servizio che la BCC di Buccino e Comunici Ventani deve necessariamente continuare ad offrire ai nostri clienti e soci. però ripeto Gianni in questo momento particolare dobbiamo essere bravi come istituti bancari a far comprendere alle famiglie e alle imprese ciò che oggi la legislazione consente loro quali strumenti per affrontare questo periodo di emergenza. quindi invitiamo tutti i clienti e soci ad usufruire di questo nuovo canale di comunicazione con la banca attraverso il quale noi potremmo dare maggior chiarezza su quelle che sono le manovre che la nostra banca ha posto in essere per far sì che le possano sfruttare appieno e nel modo migliore quindi io ringrazio anche ovviamente la tua emittente Celento Channel che è sempre vicina al territorio che fornisce un'informazione soprattutto in questo periodo molto puntuale e adeguata e credo che anche le dirette che fai quotidianamente debbano contribuire ad accrescere quel senso di responsabilità che a volte nei nostri territori sembra quasi che il problema sia di Bergamo-Brescia della Lombardia e quindi a noi non tocchi però è chiaro che dobbiamo assolutamente essere consapevoli che se le dimensioni registrate in quelle regioni dovessero anche registrarsi nella nostra regione Campania sicuramente le strutture sanitarie non sarebbero in grado di reggere questa portata per cui è importante continuare a fare questo piccolo sacrificio di restare a casa e di muoversi solo in caso di estrema urgenza e necessità quindi l'appello che voi fate quotidianamente è condiviso a pieno e anche noi da parte nostra invitiamo a utilizzare la prossimità digitale per soddisfare tutte le proprie esigenze direttore che dire io ti ringrazio soprattutto per quest'ultimo appunto ma soprattutto ancora per questa iniziativa che nonostante la distanza imposta siete comunque vicini ai vostri clienti ai soci e a tutti coloro nuovi che magari sceglieranno la BCC Buccino Comuni Cilentani grazie tantissimo e ci aggiorneremo presto anche per fare magari il punto della situazione per questa emergenza sì grazie Gianni il nostro impegno è quello di mantenere sempre un'informativa puntuale anche sulle azioni di sostegno che stiamo realizzando quindi prima abbiamo già anticipato che stiamo lavorando a ritmo serrato anche attraverso lo smart working dei nostri collaboratori quindi facendo lavorare anche da casa i nostri collaboratori stiamo lavorando già oltre 400 richieste che riceveranno delle risposte entro e non oltre la prossima settimana quindi su questo vi terremo aggiornati e anche per fare un punto sulla situazione andamentale dell'economia locale che è molto importante e quindi però guardiamo il bicchiero mezzo pieno nel senso che ogni crisi può diventare anche un'opportunità e dobbiamo essere bravi a gestirla in maniera corretta grazie Gianni grazie a voi un saluto ai collaboratori Pico Giovanni Pico e Davide mi sembra giusto? Davide che in questo momento sta facendo uno sforzo in mane per rendere operativo a questo nuovo strumento e che veramente sono stati veramente tanto tanto bravi grazie direttore a presto alla prossima grazie a tutti